Assemblea pubblica dei lavoratori di tutta la Sanita Service dell'Aslo di Taranto che rivendicano tra le altre cose l'erogazione della premialità Covid-19, l'assunzione dei 17 doni della graduatoria ausiliari e pulitori ancora in attesa e l'uscita del terzo bando del 718. Prima un'assemblea nell'Aura Socrate, poi un confronto che ha visto attorno al tavolo l'Aslo, la Sanita Service, il fronte sindacale, USB e FIALS e la politica col consigliere del presidente della regione Mino Borraccino e il consigliere regionale Massimiliano Stellato. Dall'incontro è emersa la sostanziale disponibilità a discutere dei vari temi sui quali i sindacati hanno maggiormente puntato. Oltre a mancare i 40 autisti soccorritori per quanto riguarda l'integrazione del processo di internalizzazione del 118, mancano gli ausiliari e non solo i 17 che erano stati quasi assunti e poi responsabilmente bloccati dalla regione Puglia, ma anche tutte le altre persone che servono per integrare i tanti posti di lavoro che sono purtroppo carenti, oltre a immaginare l'integrazione che bisognerà fare per San Cataldo e tutta una serie di distretti e di tutte quelle strutture collegate anche al PNRR. Intanto per lunedì 11 marzo è stato organizzato un sit-in davanti alla sede del Consiglio regionale per chiedere dalla politica chiarezza e decisione su una serie di questioni da affrontare per mettere in condizioni le Sanita Service e di operare al meglio. Noi l'11 probabilmente saremo in regione perché è chiaro che vogliamo le garanzie della politica regionale, non solo che le Sanita Service rimangano, ma che si avvii un processo in cui le Sanita Service si strutturino come vere e proprie aziende, proprio per evitare che ci siano tutti questi mal di pancia e malumori e continuiamo a dire che le Sanita Service sono un modello addirittura che bisogna esportare fuori dalla regione. Visto che siamo una delle pochissime regioni, credo due regioni in tutta Italia, che hanno un modello con una società in house come ce l'abbiamo noi, è un valore aggiunto e bisogna esportarlo addirittura.